Grazie a tutti. Abbiamo dato degli aggiornamenti per quanto riguarda la sparatoria in una scuola in Florida. A questo punto vediamo l'ultimissima notizia, si parla di almeno 7 morti, purtroppo il bilancio è aumentato, 7 persone sono morte e diverse sono rimaste ferite in questa sparatoria all'interno di una scuola superiore di Parkland in Florida. Ha preso l'autore, come avete anche già sentito, in uno strattorio antimafia, un diciottenne descritto come un ragazzo difficile, un ex studente alternativo che avrebbe usato un fucile. Tra le vittime ci sarebbe anche una professoressa raggiunta dai colpi del killer mentre con il suo corpo proteggeva uno degli studenti. Questa è dunque la notizia di aggiornamento, l'ultima notizia riguardante la sparatoria in una scuola in Florida. Ricordiamo dunque i morti sono aumentati, si parla di 7 persone morte e diverse che sono rimaste ferite. E' morta anche la professoressa. E' veramente tutto, noi ci sentiamo con i programmi del palinsesto Radio Saius TV. Grazie per la vostra cortesa attenzione, da Massimo Bonella buonanotte e Radio Saius è la vostra linea diretta con informazione. Grazie per la vostra cortesa.